Ci siamo, Parrini, Zoggia, Carinelli ha votato, Parrini non ha ancora votato, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 4.03 aggiuntivo Brunetta, parere contrario, Commissione-Governo e Relatore di minoranza. È aperta la votazione. Di Gioia, Andrea Romano, Capezzone, Invernizzi, Mi pare ci siamo, Nicchi, Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'articolo 5. Diamo la parola ai relatori per i pareri. Onorevole Bonaccorsi. Grazie, Presidente. Allora, sono tutti i contrari, ad eccezione del 5.800 e del subemendamento 0.5.800.2. Va bene, grazie. Onorevole Fico. Uno non c'è più, quindi 5.2 Simone Valente. Favorevole. 5.51 Simone Valente. Favorevole. Siamo poi a pagina 56, 5.53 Fratoianni. Favorevole. 0.5.800.1 Pannarale. Favorevole. 0.5.800.2 Coscia. Per il coordinamento urmone di i fiertzi. Grazie.